Con 92.000 visitatori professionali accolti e 1.850 espositori provenienti da tutto il mondo, Emo Hannover si conferma come appuntamento di riferimento per i protagonisti internazionali del settore della meccanica. La fiera, promossa dall'Associazione Europea delle Industrie della Macchina Utensile, CECIMO, organizzata dall'Associazione dei Costruttori Tedeschi di Macchine Utensili, è stata l'occasione per confrontarsi sulle novità e le prospettive del settore. Tra le aziende che hanno rappresentato l'Italia c'è anche BFT Burzoni, società piacentina leader nella fornitura di utensili per le lavorazioni ad asportazione Truciolo, che partecipa all'appuntamento in Germania dal 2011. Emo è una fiera molto importante, con visitatori provenienti da tutto il mondo, un vero e proprio punto di incontro strategico per acquisire nuova clientela e una vetrina determinante per farci conoscere, spiega il direttore generale Arianna Burzoni, che ha guidato la delegazione dell'azienda. L'arrivo di visitatori provenienti da oltre 130 paesi su tutti Turchia, Cina, Paesi Bassi, Italia e Polonia ha rappresentato una vera opportunità per entrare in contatto con mercati stranieri e la presenza di espositori provenienti da 45 paesi è stata anche l'occasione per confrontarsi con i competitor internazionali. Partecipare a manifestazioni di questo livello permette di avere il polso della situazione del settore e di valutare il proprio piazzamento rispetto agli altri, aggiunge Gianluca Andrina, direttore commerciale di BFT Burzoni, che sottolinea anche il valore strategico della presenza ad Hannover alla luce della volontà dell'azienda di puntare con decisione sul mercato tedesco, il primo in Europa per gli utensili meccanici con l'introduzione di un secondo agente commerciale. L'azienda infatti dispone di un magazzino da 10 milioni di pezzi, suddivisi in oltre 60 mila articoli in pronta consegna, proposti sempre insieme alla consulenza di personale esperto. Aspetto questo sul quale BFT Burzoni punta con decisione, prevedendo un importante programma di formazione. Emo Hannover è stata allora per la società l'occasione per mostrare le sue ultime novità, dalle punte perforatura B-Drill, ideali per la lavorazione anche in situazioni complesse, alla fresa a spallamento retto T4490 presentata all'interno di speciali video box. Si tratta di una soluzione innovativa che utilizziamo per proporre diversi utensili, racconta la responsabile marketing Silvia Filippini. Ogni box contiene il prodotto con i suoi complementi, eventuali strumenti necessari per l'uso, Deplia e uno schermo con un video esemplificativo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.